Io l'ho ripromesso di non toccarla più, sa tizia. Ok, io ho da parte, non questo, ma questo, l'elenco dei cambiamenti che hanno fatto ad Elisa e dovreste vederli anche sullo schermo. Questa roba è inutile e sarà un tema ricorrente. Adesso Elisa, dopo il Moonglide, può tenere premuto giù per cancellare il Moonglide, che in realtà non sta cancellando un cazzo, l'unica cosa che sta facendo è recuperare dopo il Moonglide in crouch, che significa che se l'avversario è pirla e vi vede fare questa cosa e non vi ha interrotto nel frattempo, può decidere se abbassarsi temendo un down 3 oppure, che ne so, Elisa può essere completamente idiota e fare qualcosa tipo Moonglide into Wild Standing 1 di P1, eccetera. Sì, è cambiata la luce su questa versione dello stage perché mi piace di più così. Tutto qui. Quindi questo cambiamento è essenzialmente inutile. Cancellare il Moonglide con down. Cancellare, è un parolone. Quarter circle forward 1 più 2. Hanno risolto un bug. Prima, dopo aver reparato questa mossa, Stand guard e poi crouch. Dopo aver reparato questa e dai, resta a parare più tempo, mannaggia te. Perfetto, così. Non ci si poteva abbassare. Era così plus che faceva jail. Quindi dopo quella palla di fuoco non ci si poteva abbassare sui jab. Adesso è stato fixato. Niente di che. È come correre in faccia all'avversario. Esattamente. Corri in faccia all'avversario e poi ti abbassi. Grandioso. DP diminuita la distanza quando colpisce la mossa. Questo. Cosa cambia? Nulla. Non si è trovata nessuna combo routing più. perché questa mossa già lasciava abbastanza vicino. Quindi non si è capito perché hanno fatto questo cambiamento per il momento. Esiste e ce lo teniamo. Forse è meglio, non si sa. DP EX è attivo per 5 frames in più sull'ultimo colpo solo sul quinto. A che serve? Non ne ho idea. Forse in alcuni casi quando colpivi per aria la mossa andava a vuoto on hit e forse adesso è sistemato non ne ho la più pallida idea. Forse è un altro bug fix certo non un buffer. Quindi per ora fino a qui buff non esistono. Quarter circle back 2 prima questa mossa era meno 2 on hit adesso è più 2 quindi è stata normalizzata come la maggior parte delle mosse che si rispettino è plus on hit. Ha aumentato il range basso della mossa questo è interessante. adesso questa mossa a volte colpisce a terra e flippa l'avversario. Non è un demon steel pedal però può avere i suoi utilizzi. Però considerato che Elisa i tool per colpire a terra li aveva già ed erano anche molto buoni non vedo perché andare a preoccuparsi di questa mossa. Questo a terra fa 16 lo faceva anche prima ed è più veloce. Questo fa 17 capirai. Vabbè l'hanno fatto ce lo teniamo anche questo. Quarter circle back 3 e qui si piange. Signori siamo arrivati al punto in cui si piange. Hanno cambiato il frame advantage cioè l'interazione on block da meno 19 a meno 13 fantastico diminuite il recovery quando la mossa colpisce di 6 frame fantastico cambiato il comportamento dell'avversario quando la mossa colpisce a mezz'aria o è un counter hit e qui si piange. questa mossa prima oh io ho A3 sei arrivato in un momento terribile sto per piangere questa mossa prima quando colpiva a mezz'aria se l'avversario era ok cominciamo dalla parte che influisce per tutti ok questa mossa era il migliore wall floor break di Elisa sono in questo stage apposta per questo adesso questa mossa quando colpisce a mezz'aria fa volare via l'avversario prima rompeva il pavimento ed era fortissimo adesso non lo fa più adesso Elisa non ha più nessuna mossa utile per rompere il pavimento l'unica cosa che può fare è questa cagata qua in tre colpi il backswing che come cazzo fai a metterlo in una combo o basta quello era la nostra mossa per rompere il pavimento era questa adesso non lo fa più ed è un nerf enorme su questo stage perché prima Elisa era buona su questo stage adesso è totalmente inutile spazzatura non ci puoi fare niente su questo stage l'unico motivo per rompere i pavimenti è toglierli all'avversario ma tu non ci fai niente e l'altra cosa terribile di questa mossa che è stata cambiata e che non influisce tutti ma solamente chi era davvero bravo con Elisa e che adesso questa mossa eh vabbè mi devi fare il favore di stare al muro sta cosa che voglio fare non è facile io ci ho messo un anno e mezzo per imparare a farlo e adesso non si può fare più sì è anche in maniera succosa non deve andare al muro quanto è difficile sta roba però l'hanno nerfata lo stesso la sapevano fare in 10 al mondo l'hanno nerfata se non si fosse capito sto cercando di fare un sidestep che non è né troppo piccolo né troppo grande e dopo il sidestep devo fare un dive kick istantaneo e dopo quello devo fare altra roba in un peto secondo eccolo qua questo prima schiacciava l'avversario a terra e una volta schiacciato dopo un dive kick istantaneo dopo il sidestep 4 corsa altro dive kick altro dive kick con 3 a quel punto schiacciavi a terra e con un terzo dive kick di fila i ex riuscivi a recuperarli per aria e continuare la combo è una cosa difficilissima che sapevano fare in pochi ma adesso visto che questa mossa qui quando li colpisce per aria li spinge via in quella maniera i dive kick risets non si possono fare più quindi chi aveva passato mesi e mesi ad allenarsi su questa cosa e ottimizzava le combo in questa maniera perché si poteva fare adesso non lo può fare più c'è gente come Chanel che ci viveva con questa cosa perché aveva imparato a farlo e giustamente lo sfruttava ed era l'unica cosa con cui si divertiva e si allenava con Elisa adesso niente lui è un chilometro non ci puoi fare niente mossa nerfata tantissimo in cambio di cosa in cambio di quest un lancio in counter hit che mi fa volare l'avversario lontanissimo e che ovviamente diminuisce drasticamente la mia possibilità di combo l'unica cosa che posso fare sensata è correre e fare dive kick perché l'opzione più forte è fare instant while running ma in un match tu non sai se la mossa colpisce o no e non sai se fa counter o no quindi su reazione non ce la fai a fare il running istantaneo devi fare altro il tempo è quello per fare corsa dive kick in season 2 avrei rotto il pavimento qui facendo altro al muro qui non posso farlo più perché dive kick 3 non lo fa più quindi questo lancio in counter hit l'unico vantaggio che ha questa mossa adesso è che se la fate istantanea è meno 9 quindi è un lancio in counter hit safe da in piedi che è una cosa che a eliza mancava se fate la versione istantanea a meno che non gli state proprio addosso anzi no non è vero con l'input perfetto è sempre meno 9 ma dovete fare l'input perfetto ricordatevi che con le mosse aeree in base a quando le fate in aria il frame data cambia quindi questa mossa può essere dal massimo meno 14 a un minimo che ne so di meno 4 se colpite sulla punta del piede ma da terra se fate l'input perfetto è meno 9 che cosa implica la rottura del pavimento una combo estesa che fa più danno ci sono 3 pavimenti su questo stage che si possono rompere l'obiettivo quando fai una combo è romperli tu prima che gli rompa l'avversario e ti distrugga quindi questa mossa da sola è un nerf enorme per il personaggio perché chiunque aveva imparato a fare i reset adesso non li può fare più questo lancio in counter hit è decente ma non è niente di incredibile e basta il cambio più utile a questa mossa è che adesso è safe se la fate perfetta ma è una mossa che già prima nessuno puniva perché la confondevano con questa che è il dive kick con 4 che è plus ma era punibile nessuno la puniva tranne gli elisa player perché la riconoscevano andiamo avanti perché non è finita qui durante il salto è la stessa mossa ridotta a meno 14 al massimo l'abbiamo appena vista e poi eccetera eccetera dive kick 4 cambiato il danno da 14 a 15 un punto in più per il dive kick allora qui tu lo leggi e fai cazzo vabbè è un punto in più ma nelle combo di elisa i dive kick nelle combo max damage ne fai tantissimi quindi un punto in più per un dive kick un punto in più se ne fai 4 per le combo sono 4 punti di danno in più in combo è un buon buff stage select diciamo così A3 l'hanno resa quasi uguale per i nabbi e per chi era molto forte fa schifo come faceva schifo prima peggio però abbiamo detto dive kick fa un punto di danno in più quindi che ne so questo prima faceva 45 ora fa 46 la combo da qui ok era quello 3 dive kick ender faceva 56 di danno adesso non è questa la combo dovevo fare un solo jab ho fatto running ninguno questa ora fa 57 perché ci fa solamente un punto di danno in più se hanno aumentato un punto il dive kick e ce ne sono 3 di dive kick non dovevo fare 3 punti di danno in più e quindi arrivare a 59 no perché no perché nello scaling del danno quel punto di danno in più viene aggiunto esclusivamente se il primo colpo o il terzo colpo della combo sono un dive kick se lo faccio al secondo o dal quarto in poi quel punto in più non viene aggiunto quindi nella combo che ho appena fatto il primo colpo viene rubato dal lancio che fa lo scaling al 70% dopodiché questo dive kick è il secondo colpo della combo e non fa più danno questo è il terzo e lo fa e l'altro no di questa combo hanno aumentato un punto di danno ed è così per tantissime altre combo nonostante tu inserisca più dive kick un punto di danno in più quando potevano benissimo farlo passare da 14 a 16 e sarebbe stato effettivamente un punto di danno in più per ogni dive kick nella combo perché non l'hanno fatto perché sono minchioni a odia analizza quindi questo punto in più è inutile andiamo avanti da 14 a 15 quarter circle back 1 più 2 questa mossa è fondamentale per il personaggio e questo personaggio lo sapete tutti è forte al muro e questa mossa è il motivo per cui questo personaggio è forte al muro EX slash con una barra splatta al muro lo potete fare da down 3 lo potete fare dopo aver hit confermato un dive kick cosa hanno fatto a questa mossa fa 5 punti di danno in meno quindi adesso al muro dove prima splattavate con 40 di danno facendo down 3 adesso ne fate 35 prima facevate 53 ora fate 47 con questo in cambio abbiamo avuto che questa mossa è un frame meno punibile e questa cosa onestamente mi sta anche bene 5 punti di danno in meno sono tanti da togliere ma tra meno 14 e meno 13 c'è una bella differenza quindi questo non è né un buff né un nerf è un cambiamento e ti può tranquillamente stare bene se non te la fanno se non te la bloccano mai è un nerf perché hai perso 5 punti di danno se non sei bravo a piazzarla e te la parano spesso essere puniti a 13 è meglio che essere puniti a 14 quindi sta nelle mani del player ma è un cambiamento accettabile questo è ridicolo i x dive che passa da meno 13 a meno 9 questa mossa l'avete vista un sacco di volte è meno 9 fantastico è safe peccato che prima era meno 13 e a questa distanza nessun personaggio nel gioco a parte armor king la poteva punire c'era bisogno di rendere questa mossa safe è chiaro che è meglio che sia meno 9 che non meno 13 ma perché cazzo ti metti a fare ste cose a che serve se nessuno può punirla farla arrivare a meno 9 grazie la cosa che è davvero utile per questa mossa è che adesso hai più tempo per correre dopo hai 4 frames in più quindi questo che prima era difficilissimo è fattibile è più facile correre incontro all'avversario per fare le combo e recuperare con il dive kick prima era davvero quasi frame perfect corsa dive kick quello è il buff alla mossa più facile la combo dopo 1 2 3 adesso ha lo stesso recupero di quest un altro fix 1 2 3 adesso puoi fare combo con back 4 prima back 4 non connetteva mentre su wild standing 3 che è la stessa mossa sì perché questa mossa per qualche motivo del cazzo aveva un recupero più lento adesso è normalizzata con l'altra bug fix 1 2 4 l'ultimo colpo adesso lancia in counter it cambiamento condiviso con tantissimi personaggi che hanno string del genere c'è alisa che aveva questa string in season 1 e 2 e il terzo colpo lanciava in counter adesso hanno fatto la stessa cosa per tutti i personaggi che hanno una string del genere jean eccetera 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 jab poi calcio alto alla fine l'ultimo lancia in counter va bene normalizzata f3 cambiato lo start up da 18 a 16 f3 è questa mossa patetica che fa 17 di danno e 0 on hit quindi non è neanche vantaggiosa ed è meno 9 on block è la puttanata che non lancia in counter it ma mi lascia solamente sto frame advantage in cui l'avversario può parare qualsiasi cosa il fatto che adesso sia passata da 18 di start up a 16 significa che adesso elisa ha una punish per il death fist dove prima non esisteva non potevi fare niente se paravi un death fist adesso puoi fare 17 di danno e 0 on hit wow fare questa mossa un vero lancio in counter era troppo difficile meglio lasciarla più 25 ma con niente dopo ma 2 frame più veloce bello moonglide 1 diminuito il range dell'attacco non c'è bisogno che lo spiego e questo è l'altro nerf grosso 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 a elisa ff3 4 e moonglide 3 4 la mossa recupera più veloce di 4 frames solo il primo colpo quindi dopo questo mi posso muovere prima inutile perché non fai mai solo il primo colpo diminuito il tempo per il personaggio e per l'avversario on block per velocizzare l'interazione non cambia nulla il secondo colpo può essere adesso evitato abbassandosi se il primo viene parato questo era il motivo per cui questa mossa era forte era l'unico lancio safe di elisa e safe è tra virgolette perché questa mossa è un doppio alto era safe nel momento in cui l'avversario non se lo aspettava e lo parava perché on block è meno 7 e l'avversario non si poteva abbassare parava il primo doveva parare il secondo e dopo elisa stava a meno 7 quindi neanche vantaggioso perde il turno a meno 7 adesso ci si può abbassare dopo il primo colpo quindi dove prima l'avversario se voleva evitare questa mossa doveva avere un read e abbassarsi prima che tu la facessi per evitare entrambi i colpi che significa che potevi approfittare del fatto che l'avversario si abbassava a cazzo a questo range per provare a evitare la mossa adesso questa cosa non esiste più perché lo possono fare su reazione sul secondo colpo questa mossa non è più utile ciao atre mi spiace che tu sia arrivato proprio adesso alla prossima quindi questa mossa ha perso la sua funzione non è più l'unico lancio safe di elisa perché adesso se vedono questo il primo colpo possono tranquillamente abbassarsi on block e lanciarti perché hanno fatto questa cosa ff33 nuova mossa questa è l'unica nuova mossa che hanno dato elisa perché f3 più 4 è moonglide con una barra manuale tutto qui non è una nuova mossa che fa sta mossa nuova vediamo che succede se l'avversario si abbassa cercando di evitare questo pam pam spedito in culonia non ci posso fare niente laddove con l'alto lancio con il medio non faccio nulla se lo confrontate con lì che c'è lo stesso lo stesso mix up con wild standing 2.4 e wild standing 2.3 se lì rischia il medio che è il meno 13 dopo ha danno gratis se va in rage ha una combo ed è la stessa mossa lo stesso tipo di mix up vuoi abbassarti sull'alto che dà plus frames on hit oppure vuoi beccarti il medio che è meno 13 se lo pari perché è meno 13 per entrambi sia per me che per lì però elisa dal medio non ci fa niente niente lì ci può lanciare o avere un colpo gratis questo è quello che stavo dicendo prima cioè elisa ha quello che hanno tutti ma peggio se ce l'ha se questa mossa invece colpisce con entrambi i colpi l'avversario è fuori asse e non gli potete fare nulla l'unico modo per recuperarlo da qui è usare una barra quindi per lanciare con questa mossa è obbligatoria una barra bel mix up del cazzo con una mossa che prima lanciava sempre in neutrale l'unico scopo di questa mossa nuova l'unico scopo è nerfare quella vecchia per mettere questa hanno buttato via il jail che rendeva forte questa mossa in combo questa mossa madonna in combo questa mossa è esattamente uguale a quella vecchia ma fa un punto di danno in più uno ma a meno range quindi ci sono situazioni in cui a termine della combo se provate a fare quella vecchia con net se provate a fare quella nuova non con net un punto di danno in più è il prezzo da pagare per avere completamente ucciso il suo unico lancio safe il personaggio è baffato sì se l'alto fosse stato plus on block avrebbe avuto senso e invece no è sempre meno 7 quindi comunque vada se mi para il medio mi punisce se mi para l'alto ho perso il turno abbiamo quasi finito moonglide EX manuale utile a un cazzo tranne che per questo EX moonglide 1 più 2 l'imbloccabile adesso è 10 frame più veloce e sembra uscito dalla modalità turbo adesso hai un imbloccabile istantaneo se usi una barra per farlo e funziona solo su quello EX dal moonglide normale e senza moonglide l'imbloccabile è esattamente lo stesso di prima quindi tu adesso a volte se sei alla fine del round l'avversario ha poca vita e ti è rimasto una barra da sprecare puoi provare a prenderlo mentre dorme con un imbloccabile velocissimo questo è un cambiamento interessante devo dire questo è formaggio puro che non serve a un cazzo per aiutare Elisa ma se ti avanzano barre puoi sprecarle così down forward 1-2 cambiato il comportamento dell'avversario quando la mossa è un counter hit sì esattamente è questo che hanno pensato fa schifo che facciamo la nerfiamo down forward 1-2 è una punizione media media per Elisa che viene da down forward 1 a 13 metto le virgolette dopo punizione perché anche se fa un danno discreto è meno 2 on hit ed è rimasta meno 2 on hit ma non c'entra niente io non voglio giocare Geese volevo giocare lei adesso il secondo colpo di questa roba non lancia perché sarebbe stato troppo forte ne so ha parlato di Geese down forward 1-4 di Geese che dove cazzo è mettimi Geese dobbiamo confrontarci con qualcuno che funziona alla stessa maniera confrontiamoci con Geese Geese down forward 1-1 è l'alto il medio-alto e down forward 1-4 è il medio-medio il medio-alto è stato nerfato adesso adesso è meno 4 on block nerfato dopo di F1 il mio non nerfato down forward 1-4 è meno 9 è sempre stato meno 9 on block quello di Geese nerfato è meno 4 on block perché prima era ancora meglio ok down forward 1-4 invece che è l'opzione media-media è meno 13 esattamente come il mio ma se attacco in mezzo lancia in counter il mio adesso è un knockdown a terra se mi faccio colpire dal medio-medio mi fa knockdown e il mio è meno 2 on hit capite che non ha senso Elisa perché fai lo stesso tipo di mossa estensione una alta e una media dopo di F1 a 13 frames il DF1 di Geese da solo on block era meno 1 prima adesso è meno 3 quello di Elisa era meno 3 già prima quindi Geese nerfato solo di F1 adesso è uguale a Elisa prima era 2 frame più veloce a recuperare le estensioni dopo un DF1 meno 3 per entrambi l'alto il mio è meno 9 il suo è meno 4 il medio plus on hit il suo meno on hit il mio lancio in counter il suo knockdown il mio dopo il buff e l'unica cosa che posso fare dopo questo counter hit è un colpo dopo tutto qui DF3 questo è un buff vero DF3 adesso è diventato da meno 8 on block a meno 6 Geese è il nemico dei Mishima e invece Elisa la sorella cromos aiuto vabbè meno 2 frame on block meno 2 frame on hit io recupero prima e adesso la mossa è un wall bounce questa mossa come wall bounce è molto forte perché homing e media è safe il problema è che anche se questo è effettivamente un buff rispetto a Elisa adesso Elisa rispetto agli altri personaggi è semplicemente normalizzata ancora una volta perché Elisa era l'unico personaggio nel gioco a non avere un wall bounce senza usare una barra era l'unico personaggio che non poteva usare il wall bounce quando cazzo le pareva in season 3 finalmente anche lei ha una mossa che può tirare acciola quando diavolo le pare per fare wall bounce è una mossa fantastica per fare wall bounce questo non ci piove ma doveva esserci già prima una mossa che dava wall bounce e potevi farla quando volevi è strano che hanno aspettato fino alla season 3 per metterla ma hanno scelto una mossa fantastica quindi tanto meglio back 1 2 4 lo start up dell'ultimo attacco passa da 25 a 24 significa solo che prima tra il secondo e il terzo colpo io potevo fare trade con i jab se io facevo il terzo colpo e loro facevano un jab ci colpivamo in contemporanea adesso la mossa è un frame più veloce quindi niente può interromperla tutto qui perché mi fa schifo Geese tanto vale gioco a Zafina se devo cambiare personaggio non voglio giocare Geese avanti avanti 1 più 2 cambiato il comportamento dell'avversario quando il terzo colpo il terzo colpo colpisce a mezz'aria sapete quando questo colpo colpisce a mezz'aria mai lo potete usare esclusivamente al muro questo è il nuovo wall break no floor break di Elisa al muro dovete sprecare tutti i vostri colpi perché questa è una string da 3 per portare giù quando prima avevate questo che faceva più danno era un colpo solo ed era molto più facile da inserire in combo perché è una mossa cancellabile quindi potevate fare quello che vi pare con dive kick 3 potevate fare uno spin correre e fare un dive kick e rompere il pavimento potevate inserirlo durante la wall combo normale così per rompere il pavimento adesso no adesso questo esclusivamente se siete già al muro facendo niente di danno e sprecando 3 colpi running 1 certo che è quello il motivo è la stessa cosa per quell'altro lì per tutti quelli che hanno nerfato Jin non è che l'hanno nerfato assai gli hanno tolto le cose stupide che aveva ma non l'hanno nerfato è comunque un personaggio fortissimo e anche ha avuto cose molto buone in cambio stessa cosa per Giz running 1 da più 2 a più 6 on block fantastico recupera più veloce di 2 frame che significa che è più facile fare le combo max damage in cui si usa questo come spin e poi la mossa più tracking running 1 è una buona mossa è sempre stata una buona mossa e ha sempre avuto un problema che ha ancora più 6 fantastico che ci faccia più 6 a questa distanza se il mio anche attacco da 16 frames non colpisce questa è l'unica cosa che prende adesso all'aperto quindi questa mossa è stata abbaffata è diventata più plus on block ma nella maggior parte dei casi non cambia assolutamente nulla l'unico modo di usare i plus frames di questa mossa è se l'avessero di spalle al muro quindi è l'ennesimo buff che può essere usato solamente in una determinata situazione piccolina ed è inutile in tutti gli altri casi guarda caso è una cosa che Elisa può fare al muro dove è già forte e non può fare negli seggi infiniti e all'aperto dove faceva schifo e adesso fa ancora schifo tutte le cose brutte di Elisa i buffi che sono tutti i bassi che sono tutti lanciabili non toccati down 3 che non fa clean hit quando sei addosso all'avversario sempre lì tutti i problemi che aveva down forward 1-2 meno 2 on hit tutto lì sta tutti i problemi di Elisa sono ancora tutti dove stavano quello che hanno tolto erano le cose forti quindi il bilanciamento complessivo dei cambiamenti della season 3 è che il personaggio è ancora peggio di come era prima le cose forti che aveva in buona parte le ha perse e le cose deboli che aveva sono tutte lì finito non ho nient'altro da dire questa è Elisa della season 3 mi spiace di averci messo così tanto è di essere palesemente infastidito mentre dico queste cose ma chiaramente quando vedi che un personaggio fa cagare dal day one e dal day one cominciano a farla sempre peggio ogni volta che cambiano il gioco e gente come Dragunov viene baffata senza motivo all'inverosimile palesemente ti girano le palle e sei costretto a cambiare personaggio si può giocare ancora Elisa ma perché? perché dovresti giocare una cosa del genere quando è chiaro che tutti la odi siano anche quelli che l'hanno fatta via mai più grazie a tutti